Siamo con Pietro, ecco, da 18 chiudono il sottopasso per i lavori della ciclabile. Ecco, voi siete stati avvertiti, com'è la situazione qua in Via Trento? Allora, noi sapevamo che c'era un progetto in corso, sapevamo che dovevano iniziare i lavori, non siamo stati avvertiti, abbiamo scoperto da Imperia Poste che cominciavano i lavori il 18, che veniva chiuso il sottopasso e sicuramente la zona ne guadagnerà assolutamente, però al momento avremo sicuramente dei grossi problemi lavorativi perché la viabilità è completamente stravolta ed è difficile raggiungere Via Trento, quindi gli esercizi commerciali subiranno sicuramente dei contraccolpi importanti. Chiediamo che vengano studiate delle alternative che ci permettano di lavorare.